Buonasera amici sportivi di Teleiride, bentornati a T-Sport. Ore 19 riparte l'appuntamento con T-Sport, il nostro approfondimento sul mondo dello sport ferentino e toscano che oggi ovviamente si dedica come sempre a tutte le discipline del nostro territorio ma in particolare va a fare un focus sul campionato di Serie A di Rugby. Un campionato che ha visto protagonisti i cavalieri dell'Unione Rugby Prato Sesto, cavalieri che oggi sono rappresentati qua dal presidente Riccardo Conti e da un atleta Alessandro Lunardi. Buonasera. Allora partiamo subito nella discussione legata al rugby però prima devo fare una piccola parentesi legata invece al mondo del calcio perché oggi la nostra Chiara Elci ha intervistato Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina per quanto riguarda la squadra femminile, quindi il nuovo progetto della Fiorentina Calcio. E proprio a proposito delle sue atlete sentite cosa ci ha detto il numero uno della società viola. Sì siamo all'avanguardia, siamo anche apprezzati da molti, forse ancora c'è un minimo di non conoscenza del settore che quindi fa sì che ancora le ragazze in Italia che giocano al calcio siano poche. Però noi ci auguriamo che anche le altre squadre professionistiche di Serie A a cominciare dalla Juventus a cui facciamo tutti i nostri complimenti per la vittoria del quinto scudetto, visto che sono così importanti, così forti, possono anche loro fare una squadra femminile così avremo una Fiorentina Juventus non solo tra i maschi ma anche tra le femmine. E tra le femmine speriamo che vada meglio rispetto a come è andata tra i maschi. Beh insomma non è andata poi malissimo, a volte ci sono delle partite che non meritiamo di perdere ma perdiamo e il contrario, questo è il mio giudizio, è una partita che non meritavamo di perdere, c'è stata un po' di sfortuna chiamiamola così e quindi poi alla fine abbiamo capitolato ma credo che il gioco in campo dimostrato dalla Fiorentina non sia stato da meno da quello della Juventus. Abbiamo sentito anche una postilla del presidente della Fiorentina femminile a proposito invece della squadra maschile che come sappiamo ha perso il big match contro la Juventus, un big match che di fatto ha dato poi la possibilità ai bianconeri di vincere il campionato di Serie A, anche complice soprattutto il risultato della Roma contro il Napoli con la Roma che battendo il Napoli ha fermato la rincorsa della seconda in classifica. Concludiamo lo spazio dedicato al calcio andando ad ascoltare anche le parole di Eugenio Gianni a proposito del Golden Circuit 2016, un torneo di calcio davvero particolare. Partiamo da questo torneo di calcio giovanile, quanto è importante il sostegno istituzionale a dei tornei di base come questo? In questo caso è un torneo di base con la T maiuscola perché si tratta di un torneo che va a coinvolgere complessivamente 71 squadre per varie tipologie di intervento a livello proprio di formazione per il calcio. I bambini più grandi avranno 12 anni, sono tornei che dalle scuole calcio arrivano proprio a questa età e quella dei giovanissimi. È una manifestazione che quest'anno si svolge nell'area fra Firenze, Prato e zone limitrofe ma che coinvolge appunto 71 società per arrivare a un punto di riferimento che è la fase conclusiva a sesto. Io ritengo che la famiglia Mancini sia stata negli anni, svolgendo a più riprese e in più luoghi questa manifestazione davvero protagonista, di un modo di intendere il calcio che non è quello di vedere solo Fiorentina-Juventus, per citare ciò che è avvenuto a Firenze domenica scorsa, ma invece per dar conto di quell'importanza del movimento che nelle società di calcio ormai trova l'agorà delle nostre comunità. 800 sono le società circa di calcio in Toscana. Ecco, in queste 800 società c'è la squadra che mobilita i genitori negli allenamenti, nella partita, nella pizza, nel trasmettersi valori, sensazioni, emozioni. Questo universo che attraverso l'associazionismo calcistico è uno dei soggetti fondamentali, è un tessuto connettivo della comunità, in questo torneo trova sicuramente il torneo più importante dove le nostre società si confrontano con quelle straniere. L'albo d'oro del torneo ci dimostra che spesso sono state proprio società straniere a vincere, mostrando un modo di educare, di formare attraverso il calcio, che poi è qualcosa a cui dobbiamo imparare anche noi. E' comunque una grande festa dello sport che si concretizza in questo circuito, che vedrà appunto protagonisti i bambini nel momento in cui facendo calcio imparano anche i veri valori della vita. Dalla competizione, alla diffusione, al modo di stare vicino anche chi ha disagio, perché la componente è la solidarietà, questo torneo lo mette bene in evidenza. Abbiamo parlato per 5 minuti di calcio, i restanti 20 invece sono di rugby, mi sembra che stiamo ribaltando il concetto nazionale di spazio agli sport qua in studio, ma è doveroso, e perché, appunto, come abbiamo detto in precedenza, abbiamo due ospiti che arrivano a rappresentare il Prato Sesto, quindi ringrazio ancora Riccardo Conti, il presidente della società, e Alessandro Lunardi, uno dei giocatori che ha ottenuto la salvezza in Serie A, e proprio da qua partiamo, da questo campionato di Serie A in cui è arrivata la salvezza. Presidente? Che dire, sicuramente è stata una cosa fantastica, perché non è tanto il fatto di che abbiamo ottenuto la salvezza, abbiamo mantenuto, perché quella collocazione, da un punto di vista sportivo, ci consente di collocarci in una selezione decorosa, molto, e rappresentativa a livello nazionale. Quindi siamo contentissimi di questo, perché tra l'altro il campionato ha, a metà campionato addirittura pensavamo di poter raggiungere il mantenimento prima e in forma più tranquilla, abbiamo un attimino sofferto, ma comunque qualche volta anche dalla sofferenza ci sono anche le maggiori gioie, per cui siamo stracontenti. La stagione sportiva, al di là di questo traguardo, che è importantissima, perché rappresenta comunque il vertice della società, è stata una stagione, e tuttora lo è, perché ancora in parte si sta giocando, per altre categorie, è stata una stagione sinceramente degna delle migliori soddisfazioni, e questo indubbiamente. Infatti le giovanili si sono mostre benissimo, la cadetta è tuttora in corsa per il primo posto, per salire nuovamente di categoria. Le giovanili, sia la 16 e la 18, siamo tra le prime otto rappresentative a livello nazionale, sia nell'anno del 16, sia nell'anno del 18. L'anno del 18 sta facendo le finale nazionali adesso, è la fase finale, vediamo un po' come va. Ovviamente già è stato un successo entrarci nelle fasi finali, perché erano diversi anni, almeno nel territorio che ci compese, questa cosa non avveniva. Quindi diciamo che da un punto di vista sportivo, non scortandoci anche il bellissimo percorso che sta facendo tuttora la 14, la categoria più giovane della società, da un punto di vista sportivo possiamo essere contentissimi. Poi, ripeto, ci sono state le gioie particolari e sofferte anche della salvezza e del mantenimento del posto in Serie A. Facciamo un inciso, anche per chi magari non segue tantissimo la Serie A di rugby. Prima il Presidente ha detto che abbiamo ottenuto la salvezza, forse potevamo ottenerla un po' prima e senza tutti questi patemi d'animo. Ovviamente si fa riferimento al fatto che la Serie A è divisa in due parti di stagione, la prima parte in cui c'è la possibilità di qualificarsi a una pool promozione e a una pool retrocessione. Ovviamente per la pool promozione partecipano squadre che ambiscono al salto di categoria in eccellenza, ma non possono di fatto poi retrocedere nel corso di questa seconda parte di stagione. In Serie B, discorso diverso invece per la pool salvezza, per la pool retrocessione, chiamiamola come vogliamo, è una pool in cui invece chi arriva primo comunque non ottiene nulla, se non una cosa importante come il mantenimento di categoria. Chi invece arriva nelle ultime due posizioni dei due gironi è costretto ad abbandonare la categoria. Chi ha portato sul campo, perché noi parliamo, parliamo tanto, ma insomma abbiamo anche pochi minuti, almeno io pochissimi minuti sul campo da gioco, chi invece ha tanti minuti sul campo da gioco è molto meno chiacchiere, Alessandro Lunardi, che appunto rappresenta oggi la squadra. Quindi insomma raccontaci un po' questa salvezza, questa salvezza che come dicevamo col Presidente è stata un po' sofferta, ma tutto sommato anche epica e eroica, perché insomma c'era un momento in cui anche nella pool retrocessione sembrava che le cose non andassero per il meglio. Poi invece avete cambiato passo completamente. Sì, sicuramente è stata una stagione positiva, perché alla fine la stagione si valuta sui risultati finali, quindi l'obiettivo minimo era quello della salvezza e la salvezza è venuta, quindi siamo soddisfatti della stagione. Per quanto riguarda il corso della stagione, sicuramente siamo partiti forse un po' a rallenti, poi abbiamo preso il nostro passo, forse convinti della salvezza siamo un po' ricalati, quindi insomma abbiamo dovuto rimettersi lì, concentrarsi, parlare, un po' unirsi da squadra, come si fa in queste situazioni e ritrovare un po' il focus per poi arrivare al risultato, perché era assolutamente alla nostra portata. Ecco, ma il Presidente ogni tanto scendeva negli spogliatoi a dirvi, uè ragazzi, cosa stavamo facendo, in momenti di maggiore difficoltà, diciamo così? Certo, no, no, ma la società è sempre stata presente, non è stato un problema legato a quello, anche il Presidente ci ha fatto visita, ma non è stato un rimprovero, ecco, era semplicemente un ritrovare un po' la concentrazione, un po' i nostri punti di forza e fare leva su quelli, perché poi alla fine la squadra c'era per competere, anche appunto a livello magari un po' più alto, ecco. Esatto, anche per provare magari a ottenere l'accesso in pool promozione, del resto questo era un anno importante, perché era un anno di prime volte, era l'anno della prima volta in cui questa società, diciamo, cambiava nome, cambiava struttura, quindi voglio anche tornare su questo passaggio della vostra storia recente, era anche il primo anno di YOLO, di un campo comunque importante e prestigioso, quello che è appartenuto ai Cavalieri Rugby. Certo, è vero, questo è un anno importante, è stato un anno importante, è anche difficile qualche volta, perché cercare un attimino di organizzare e collegare tutte queste cose, sia di carattere sportivo e carattere extrasportivo, non è spesso facile. Comunque è stato un anno importante, come hai ricordato tu, ci vedeva per la prima volta, diciamo, padroni di casa, diciamo, in un impianto, una struttura che effettivamente, anche a livello nazionale, è un impianto, una struttura molto bella e molto capace, che quindi, diciamo, abbiamo cercato soprattutto di riottenere anche, diciamo, a beneficio di tutto il pubblico, diciamo, del territorio, che è un pubblico che ha sempre seguito il rugby e quindi anche per ricostituire, diciamo, una compattezza sociale intorno a questa cosa, ci sembrava giusto, diciamo, riconquistare questo impianto e quindi è stato, diciamo, molto bello da una parte, molto nuovo dall'altra, quindi approcciarsi a realtà, diciamo, leggermente diverse da quelle che erano, che però, appunto, hanno dato dei risultati, come abbiamo detto prima, e stanno dando dei risultati, diciamo, al meglio. Per quanto riguarda, invece, la nuova società, che è nata da Gispi, Prato Sesto e di Cavalieri, questa convivenza, questa nuova convivenza, come procede, come sta andando e perché è nata? Un po' l'abbiamo spiegato anche all'inizio stagione. La nuova società, anche questo, su questo vorrei essere chiaro, la nuova società è un nuovo, diciamo, per modo di dire, perché questa è una società che, diciamo, sicuramente è molto giovane nell'ambito, diciamo, del rugby e soprattutto toscano, perché rispetto, diciamo, a società ormai storiche, come può essere Firenze, come può essere Livorno, ha, diciamo, anni, ha degli anni, è giovane, diciamo, perché questa è una società, l'Unione Rugby Prato Sesto è nata esattamente nel 2010 con, allora, soci, il Sesto Rugby e i Cavalieri ASD, che erano, praticamente, diciamo, stati i fondatori di quelli che poi, diciamo, dei Cavalieri. Una squadra che militava in eccellenza fino all'anno scorso. Quella è nata come società e con una franchigia, è una parola tanto di moda di questi tempi, proprio con i Cavalieri, diciamo, che militavano nel campionato di eccellenza. Poi, le cose si sono, diciamo, assestate, ovviamente si sono organizzate sempre di più e la collaborazione, allora era una collaborazione molto stretta, che avevamo comunque con il GISPI, diciamo, nell'area pratese, è diventata effettivamente poi una convivenza societaria tra queste tre realtà, Sesto, GISPI e Cavalieri ASD, dando luogo a quella che, quando è nata, si chiamava soltanto Unione Rugby Prato Sesto e ora ha preso anche il nome dei Cavalieri Unione Rugby Prato Sesto. Una filastrocca, ma... È lunga. Poi sul campo... È il Cavalesto. Gli atleti, il Cavalesto è l'Unione, il Cavalesto è l'Unione, quindi sono loro a decidere, giustamente, diciamo, come chiamarsi e come farsi chiamare. Diciamo, a livello gergale, voi nello spogliatoio come vi chiamate? Siamo Cavalesto. Siete il Cavalesto, perché è una realtà che già esisteva prima, quando c'era la convivenza, diciamo, con l'altra società, i Cavalieri, quindi è un nome poi bello, nato, insomma... È una crasi delle parole più importanti che poi, insomma, rappresentano anche la società. A proposito di passato, Alessandro è stato giocatore dei Cavalieri, dei Tutti Neri, chiamiamolo così, anche se Tutti Neri nel rugby poi fa pensare anche ad altri Tutti Neri, sicuramente, molto più forti, senza voler trovare nulla ai Cavalieri di Prato. Tu hai affrontato i campionati d'eccellenza e, di fatto, quest'anno per la prima volta affrontavi un campionato di Serie A. Ti chiedo che livello competitivo hai trovato e che esperienza è stata a livello sportivo. Ma, sicuramente è stata la prima volta anche per me, no? Come stavamo parlando le prime volte, è stata la prima volta anche per me in Serie A. E devo essere sincero che l'aspettativa che avevo forse non era neanche così alta come invece mi sono ritrovato. Nel senso, il campionato è sicuramente il campionato d'eccellenza e un campionato più fisico, dove magari il ritmo è un pochino più alto, però tutto sommato è un campionato, quello di Serie A, dove siamo messi alla prova sotto tutti i punti di vista, anche dall'aspetto tecnico, non c'è così tanto divario, come credevo, ecco, magari negli anni precedenti. Prima di cimentarti con la Serie A. Per quanto riguarda l'annata, personalmente ho sperimentato anche nuove posizioni, nuovi ruoli, quindi è stata veramente un'evoluzione per me, sono contento di questa mia annata, anche personalmente, spero di aver aiutato la squadra a raggiungere l'obiettivo. Sicuramente, l'obiettivo è raggiunto, quindi una parte, un mattoncino l'avrai messo di sicuro anche tu con il tuo contributo, del resto conoscevi bene il terreno di gioco, perché è stato il tuo per diversi anni, Presidente ce la facciamo a fare giocare Alessandro altri anni sul terreno di Iolo, perché sappiamo che c'è una concessione temporanea, adesso mi immagino che vogliate farla diventare un po' più lunga a livello temporale. Sicuramente il nostro interesse, il nostro desiderio è quello, per cui io penso che Alessandro potrà giocare, almeno finché continuerà a giocare nella società, continuerà a giocare e a calcare lo stesso terreno di gioco, ma siamo abbastanza fiduciosi su questo. Tra quanto avremo qualche... Ma presumo nel giro di pochissimo tempo si sta parlando di un mese o due. Quindi tra un mesetto, un mesetto e mezzo, sapremo qualcosa in più al riguardo dell'impianto di Iolo, un impianto che non solo ha visto protagonista la Serie A, ma che recentemente ha visto protagonista anche una selezione della nostra nazionale, l'Under 17, e questo penso sia anche un segno di quanto è importante Iolo a livello nazionale. Sicuramente, come ho detto prima, l'impianto parla da solo, perché è un impianto che nell'ambito reggistico è un impianto conosciuto e che si presta molto a ospitare anche competizioni di una caratura notevole, come può essere una rappresentativa nazionale, insomma, che poi sia una rappresentativa nazionale, in questo caso giovanile, poco importa, ma è sicuramente una partita di richiamo e un evento di cui buone ficiare nel nostro territorio. Tra l'altro, evento anche seguito, nonostante ci fosse un bel po' di maltempo, non fosse proprio la condizione atmosferica migliore per seguire una gara, tra l'altro io mi ricordo delle immagini bellissime di tutti questi reggisti completamente insaccherati, lo posso dire, di fango dalla testa ai piedi. Come spesso avviene nel mondo del rugby, perché non si bada certo a non sporcarsi la maglietta, anzi penso sia fondamentale, Alessandro, sporcarsela anche per bene. Parlando di futuro, sicuramente l'Under 17 è parte del futuro della nazionale italiana, ma il futuro prossimo a livello sportivo invece per la sua squadra qual è? Si riparte da questo blocco, si conferma tutto oppure c'è qualche cambiamento che ci dobbiamo a tempo. Allora, si conferma soprattutto del progetto, quando io parlo di progetto parlo di un work in progress che ormai stiamo facendo appunto da qualche anno, da quando la società è nata e anche durante la sua evoluzione di cui abbiamo un po' spiegato prima. Il progetto è quello sempre di creare una base sempre più allargata per un'utenza tecnicamente qualificato ovviamente, ma anche per un'utenza di giovani atleti, la cui crescita è affidata ai soci della società rispettivamente Gispi sul territorio pratese, il senso sul territorio se stesse e limitrofi ovviamente, che poi confluiscono nelle categorie un attimino più grandi dell'Unione, ma per creare sempre più possibilità a tutti i ragazzi, a tutti gli atleti che vogliono comunque praticare il suo sport anche per lungo tempo, di trovare una collocazione adeguata ai loro mezzi, alla loro voglia, al loro desiderio e quella di crescere ovviamente insieme anche da un punto di vista sociale e non sportivo. Anche se come abbiamo detto i risultati giovanili sono importantissimi e quindi quello che confermiamo in blocco è il progetto, poi ovviamente stiamo un po' valutando e per confermare il progetto bisogna sempre cercare di dare un qualcosina in più, di migliorarsi in alcuni aspetti. Un'anticipazione ce la può dare del miglioramento a cui abbiamo? Il miglioramento è sicuramente creare o comunque collocare o confermare ovviamente delle figure da un punto di vista tecnico e strutturale, ci consentono di dare una stabilità e un consolidamento a tutta la società, cioè quindi maggiore interazione tra tutti quelli che sono i tecnici sia da parte giovanile sia da parte siano in maniera tale che i passaggi che all'interno diciamo i nostri atleti possono effettuare. Non ci scordiamo che siamo in un momento in cui anche su statistiche nazionali c'è fortunatamente, io dico fortunatamente, un maggior utilizzo e un maggior ingresso di giovani nelle categorie senior. Oggi è molto più facile di prima e questo penso che Alessandro potrebbe confermare che un ragazzo di 17 anni già si trovi la diciamo la sua collocazione diciamo in ambito senior e anche a categorie come può essere la serie A ma anche l'eccellenza. Quindi questo è necessario che questo passaggio che il giovane atleta fa all'interno della propria società debba essere fatto nella maniera più semplice e più continua possibile. Quindi la struttura deve essere veramente una struttura, una grande famiglia. Quindi ovviamente questo spetta molto ai tecnici e alle persone che possiamo individuare tali che possano creare una struttura organizzativa e tecnica di rilievo che porti i risultati sportivi migliori ma che soprattutto faccia consolidare la società. Io dico sempre una cosa, la società e una struttura deve sopravvivere a se stessa indipendentemente dalle persone che in quel momento ci sono che domani non potranno non esserci. Riccardo Conti senza voler togliere l'importanza dal Presidente ma non è Riccardo Conti ma la struttura. È molto importante e questo non è facile anche soprattutto parlando sempre di uno sport che anche se diciamo noi tocchiamo i massimi livelli o al di là dell'eccellenza ma comunque sempre il campionato di serie A nazionale è un livello alto, è sempre uno sport che diciamo naviga nel mondo diciamo del semiprofessionismo, semidirettantismo dipende dal punto di vista. Alessandro parlavamo del futuro della tua società, dei Cavalieri, del Cavalesto, del Prato Sesto scegli tu, il tuo futuro invece qual è? Beh sicuramente... Giuri fedeltà per i tanti conti? Giuro fedeltà. E poi accanto non può parlare di niente. Io ho giurato fedeltà il campo quindi insomma se mi garantiscano che... Sei uno spirito quindi, hai infestato iolo. Sì sì sì, no non me ne vado. No e la mia volontà appunto dall'anno scorso è stata quella di rimanere appunto sul territorio aiutando appunto tutto il movimento come diceva prima Riccardo appunto a crescere cioè a partire dalle giovanili dove appunto io alleno anche nel Gispi l'Under 12 e quindi da lì dare una mano a tutto il movimento verso avanti quindi ovviamente do la mia mano anche in campo essendo giuratori abbastanza di esperienza anche ai giovani a crescere a fargli fare questo passaggio dalle giovanili al rugby senior. Questo è l'esempio di giurare fedeltà al progetto. Perfetto lui è perfetto, è il mentore e allo stesso tempo è anche braccio armato. Mancano 20 secondi, io mi prendo un minuto soltanto per sforare e far arrabbiare la nostra regista perché una domanda mi preme, il derby quando lo riviviamo? Perché questa stagione siamo rimasti un po' scarni di derby. È probabile che già l'anno scorso riviviamo il derby. Dall'anno prossimo il derby. Sì, visto come sono andate diciamo come andranno probabilmente le promozioni dalla serie B alla serie A. Quindi territorialmente come si è. Sì, territorialmente credo che rivedremo il derby nell'immediato. Quindi medisce i cavalieri di nuovo a confronto, sembra una roba medievale, invece non lo è. Si parla di rugby, vuoi fare una dichiarazione pre-derby? No, io ti posso dire una curiosità. Non ho mai vissuto un derby senior perché giocando nei cavalieri già in eccellenza io non ho mai vissuto un derby. All'anno scorso non c'era. Quindi potrebbe essere una mia prima volta in quel caso. E allora insomma noi la vivremo insieme a voi ovviamente come per il corso di tutta la stagione abbiamo seguito il cammino dei cavalieri Union Rugby Prato Sesto. Spero di averlo detto bene, tutto completo per la prima volta in trasmissione. Ma insomma come avete capito di questa società stiamo parlando. Io vi invito a seguirci anche quando non parliamo di rugby ma parliamo di altre discipline sportive. Oggi però l'appuntamento con T-Sport è terminato. E allora un ringraziamento a Riccardo Conti. Grazie a voi dell'ospitalità. E Alessandro Nonardi per essere stato con noi. E ovviamente poi l'augurio di una buona serata sempre con i programmi di Tele-Irde. Arrivederci. Grazie a tutti.